Chiamo al tavolo l'associazione IACU, ci spostiamo anche geograficamente in America Latina e con IACU portiamo in campo altri due concetti e azioni fondamentali nell'approccio di sviluppo di comunità. Alessandra Crimi ci diceva che nelle comunità e nei territori non cadono solo soldi ma cadono anche i concetti, il nostro modo di pensare le cose. Allora, con IACU ascoltiamo invece una esperienza che chiama in causa le questioni della partecipazione anche dell'autogoverno nella gestione dei beni comuni, aspetto che finora non abbiamo ancora fatto emergere e raccontandoci appunto IACU ci racconta un'esperienza in America Latina di questo tipo. Ce ne parla Gaia Giongo e in collegamento via Skype, speriamo che tutto tenga, facciamo questo esperimento tecnologico, Francesca Caprini che è la fondazione di IACU e avremo quindi un dialogo a due voci su questo tema. Prego Gaia. Grazie Allora, come è stato detto prima, io sono Gaia, faccio parte di IACU e porto un po' quella che è l'esperienza e la visione dell'associazione nei progetti di cooperazione internazionale e nei progetti di educazione nelle scuole. IACU dal 2007 porta avanti appunto su questi due filoni progetti di cooperazione internazionale e progetti di sensibilizzazione ed educazione su tre macro aree che sono beni comuni, cioè la tutela dei beni comuni, la tutela dell'ambiente e dei diritti umani, la tutela, o meglio, la promozione di quello che è il protagonismo femminile per la tutela dei beni comuni, perché dalla nostra esperienza abbiamo visto che le donne sono sempre in prima linea nella difesa dei beni comuni e dell'ambiente in cui vivono, cosa per cui è importantissimo quindi tutelare i beni comuni ma tutelare anche chi li tutela. E poi un terzo macro filone è quello di promuovere delle esperienze di scambio fra Italia e Colombia, questa è Francesca che ci stiamo cercando il collegamento, promuovere queste esperienze di scambio proprio per una logica di confronto ma anche di creazione di ponti con paesi fra comunità diciamo distanti ma che possono essere comunque assolutamente vicine, vicinissime in una battaglia comune che sono quelle della difesa dell'ambiente e la difesa dei diritti umani. La visione di cooperazione internazionale di IACU nasce proprio dall'esperienza sul campo, cioè da una riflessione nata da attività sul campo a fianco alle comunità, a fianco a, prima si diceva, di ascolto, di cosa hanno bisogno le comunità. La nostra visione di cooperazione internazionale nasce proprio da quello, cioè dalle esperienze accanto alle comunità che avevano assolutamente bisogno ad esempio di mantenere la gestione delle risorse naturali all'interno della comunità e non demandarla ad un livello ad esempio più alto. Per fare un esempio, uno dei progetti che abbiamo chiuso nel 2017 era stato sviluppato proprio in quest'ottica qua. Cioè l'appoggio nella creazione o meglio nel miglioramento e ristrutturazione di 14 acquedotti comunitari in Colombia e questo appunto non aveva solo lo scopo di migliorare diciamo quello che era l'approvvigionamento idrico delle comunità ma era proprio per mantenere, per far sì che queste comunità mantenessero la gestione di questa risorsa naturale perché il rischio in quel caso era che non avendo uno standard qualitativo dell'acqua sufficientemente alto c'erano delle norme, delle leggi locali che avrebbero previsto il passaggio di consegna e di gestione degli acquedotti ad un livello privato e quindi in quel caso è stato un tentativo riuscito di mantenere la gestione comunitaria e quindi è partecipata delle risorse naturali e questo si traduce nella nostra ottica anche con un appoggio politico, cioè cooperazione internazionale anche con un taglio politico ben preciso. Io però su questo, ad esempio sulle politiche di come è nata IACO e sulle politiche di appoggio alle comunità, di come sono nate, passerei la parola a Francesca che in quanto fondatrice di IACO può dare proprio una visione diretta. Sì, ciao a tutti e tutti, spero che mi sentiate, vi sto parlando della nostra sede romana, vi do un saluto veloce via video, poi mi tolgo, magari facciamo vedere le foto che raccontano un po' i nostri primi passi in Bolivia. Allora, come giustamente ha già introdotto Gaia, il nostro cammino nella cooperazione internazionale come associazione nasce in una dimensione di militanza sostanzialmente. Noi nasciamo all'indomani della guerra dell'acqua di Cochabamba, nel 2003 ci siamo recati in Bolivia e abbiamo iniziato a collaborare con i movimenti e le organizzazioni di base che in Bolivia avevano portato avanti quella bellissima esperienza di difesa dell'acqua e dei loro diritti come popolazione indigene e contadine di accesso a un bene che per loro aveva anche una dimensione sacrale. Per noi è stata un'esperienza molto forte, abbiamo deciso di fermarci lì per parecchio tempo e abbiamo iniziato un percorso di cooperazione internazionale che però si mescolava molto a quelli che erano i valori che erano usciti dalla guerra dell'acqua di Cochabamba. Ci siamo subito resi conto che la cooperazione internazionale in Bolivia, all'indomani dell'esperienza rivoluzionaria della guerra dell'acqua, ma anche per le caratteristiche precipue di quella popolazione, che è una popolazione ricordiamo con una percentuale fra le più alte di indigeni dell'America Latina e abbiamo subito capito che la cooperazione internazionale classica, così come era sviluppata fino ai primi anni del nuovo millennio, in quella dimensione lì non funzionava, aveva dei limiti importanti e il fatto che noi lavorassimo per l'accesso all'acqua li metteva in rilievo in maniera molto esplicita. I nostri compagni boliviani, le comunità con cui noi stavamo vivendo e lavorando in quel momento, che erano comunità indigene e contadine nella zona periurbana di Cochabamba, parlavano di neocolonialismo dell'eschierda, sostanzialmente loro subivano, si sentivano colonizzati nuovamente da un tipo di cooperazione internazionale che imponeva loro delle visioni e delle pratiche che non gli appartenevano. Tutto questo succedeva all'indomani di una autoaffermazione identitaria fortissima da parte di una popolazione che, come sappiamo, aveva subito delle forme di colonialismo molto violente. Noi abbiamo iniziato questo cammino con loro, abbiamo imparato moltissimo, abbiamo iniziato con un progetto di costruzione di una rete fognaria per circa 5.000 persone, quindi un progetto molto importante. Le caratteristiche che abbiamo messo subito in campo, visto la forma collaborativa su cui ci stavamo basando, era quella della partecipazione. Il progetto è stato scritto in maniera partecipata con le persone, con le OTB, che erano gli organismi di riferimento dei quartieri con cui noi stavamo lavorando, con i referenti comunitari. Abbiamo costruito questo progetto e lo abbiamo messo in pratica anche l'informa partecipata con il lavoro comunitario e partecipando anche noi in prima persona a decine e decine veramente di assemblee comunitarie, di quartiere, di gruppi e di organizzazioni che servivano a costruire insieme questo percorso, che parlava di fognature, che parlava di diritti, che parlava di sanità, ma soprattutto parlava di costruire una dimensione di reciprocità. Da lì noi abbiamo cercato di costruire delle pratiche legate ai progetti di cooperazione internazionale e soprattutto abbiamo appreso delle modalità di relazionarci con le comunità con cui noi lavoriamo tuttora che ci siamo portati anche qua in Italia. Il periodo di cui vi stavo parlando, appunto l'indomani della guerra dell'acqua, noi siamo stati lì per circa due anni, siamo tornati in Italia nel 2006-2007, iniziava qua in Italia la grande battaglia per l'acqua pubblica, per l'acqua come bene comune. Quello che noi abbiamo imparato con le comunità Quechua, Aymara e Contadine lo abbiamo portato qui. La stessa dimensione di difesa di un bene comune necessitava di percorsi di partecipazione, necessitava di percorsi collettivi e di metodi del consenso, per esempio, che di fatto non appartenevano alla nostra cultura politica qui in Italia. La militanza in difesa dell'acqua attraverso il referendum acqua bene comune lo abbiamo anche lì trasferita nei nostri percorsi di cooperazione internazionale. Come spiegava bene Gaia, quello che ci distingue, insomma, o che noi cerchiamo di mettere in pratica è il fatto che lottare insieme per difendere un diritto di accesso all'acqua, per difendere l'acqua come bene comune e, per esempio, una cosa che ci caratterizza molto negli ultimi anni anche per difendere il protagonismo femminile nella difesa dell'acqua dei beni comuni è proprio una dimensione di reciprocità che deve caratterizzare, secondo noi, i percorsi di cooperazione internazionale. Chiaramente la dimensione politica deve essere assolutamente centrale adesso noi lavoriamo molto in Colombia non possiamo pensare che collaborare con le comunità indigene e contadine in Colombia perché queste comunità possono avere diritto a stare nella loro terra ad avere accesso alla loro acqua non possono andare a braccetto con l'assunzione di responsabilità collettive nei confronti, per esempio, dell'estrattivismo, dell'economia neoliberista che si nutre dell'estrattivismo e di progetti di cooperazione internazionale che prendono anche coraggiosamente posizione nei confronti di un certo tipo di politica legata a doppia mandata alla difesa dei diritti umani ed ambientali. In questi giorni, poi Gaia ve ne parlerà sicuramente meglio stiamo portando avanti proprio delle dimensioni, cioè dei percorsi legati alla difesa dei difensori dei diritti umani che sono sotto attacco in Bolivia, in Colombia come nel mondo come in tante altre parti del mondo e la cooperazione internazionale crediamo che si stia rendendo conto della necessità di abbracciare anche altre dimensioni nel momento in cui si lavora in paesi terzi. Chiudo questo mio breve intervento, spero che sia stato sufficientemente chiaro perché non vi posso sentire direttamente via Skype raccontando quello che ci sta succedendo in questi giorni perché pensiamo sia giusto anche condividerlo con voi che siete tutte persone del campo e comunque attive e sensibilizzate noi stiamo aspettando delle compagne colombiane per iniziare una serie di incontri qua a Roma e poi a Trento proprio sul protagonismo delle donne nella difesa dei beni comuni e la loro rilevanza come leader attivista soprattutto in Colombia in questo momento queste due attiviste colombiane sono detenute illegalmente senza nessun motivo reale presso l'aeroporto Charles de Gaulle è un appello che lancio anche per capire in che mondo ci stiamo muovendo e ci stiamo muovendo sia con le istituzioni trentine che con quelle nazionali, con il Ministero degli Esteri però c'è l'alto rischio che vengano rispedite in Colombia solo perché sono colombiane e solo perché non hanno i nostri stessi diritti questo forse c'entra non tantissimo con l'oggetto della nostra riflessione del nostro incontro però forse fa capire quanto anche noi e le associazioni ci dobbiamo assumere delle responsabilità urgenti perché i diritti di tutte e di tutti siano difese e siano sempre più rimarcate io vi ringrazio e spero che insomma mi siate riusciti a capire e a intendere nonostante insomma il collegamento da lontano non sappiamo se Francesca Caprini ci sente le ringraziamo per questa testimonianza anche molto vibrante che ci cala in alcune situazioni molto attuali ma ancora la parola a Gaia come ha spiegato Francesca l'esperienza di progetto di cooperazione internazionale a contatto con le comunità ha poi caratterizzato anche i nostri percorsi di educazione e sensibilizzazione qua nella comunità trentina questo come stando a contatto con le comunità indigene soprattutto è emerso e su questo le abbiamo ascoltate molto attentamente ad esempio una visione anche di gestione un po' quello che dicevamo anche prima delle risorse naturali che si rifanno ad esempio alla cosmogonia andina cioè a una visione dell'uomo e dell'ambiente circostante in cui vive non come due elementi separati ma come due elementi che necessariamente comunicano necessariamente quindi devono trovare un giusto equilibrio e da questa visione che poi abbiamo fatto un po' nostra e quindi inserita anche nei percorsi di educazione all'ambiente sul territorio trentino ne esce come il ruolo delle persone non venga inteso come uno sfruttatore ad esempio dell'ambiente delle risorse naturali ma si debba necessariamente mettere come guardiano invece di queste risorse naturali e questo diciamo ha caratterizzato un po' tutti i percorsi che noi abbiamo portato avanti i progetti di educazione nelle scuole per noi sono stati importantissimi quindi hanno ripreso un po' l'esperienza di cooperazione internazionale e le abbiamo inseriti riprendendo un po' i temi di cui parlavo all'inizio volevo citare un paio di esempi ad esempio abbiamo portato a termine proprio negli ultimi mesi un progetto che si chiama Beni Comuni intorno a noi e già dal titolo si capisce come il tentativo fosse quello di educare i ragazzi innanzitutto a riconoscere i beni comuni che sono tutti intorno a noi non sono semplicemente un paio da vedere in cartolina ma noi siamo immersi costantemente e quotidianamente nei beni comuni quindi innanzitutto è importantissimo riconoscerli e poi sviluppare fra i ragazzi e fra i bambini anche un senso critico sulla gestione di questi beni comuni come gestirli, come far sì che le comunità che vengono a contatto con questi beni comuni ne beneficino ma ne diventino anche i guardiani e seguendo questa ottica, questa logica di pensiero ad esempio abbiamo promosso delle uscite sul territorio con i ragazzi per promuovere appunto questa riflessione critica ad esempio uno dei casi che abbiamo analizzato è il lago artificiale di Montagnoli in Varrendena questo piccolo lago artificiale creato apposta per produrre la neve artificiale per un impianto di risalita ecco il tentativo era quello insieme ai ragazzi a oltrepassare quello che è una visione di quello che può essere di turismo, di divertimento ma anche di bellezza, di primo acchitto si pensa a un'idea di divertimento ma vedere cosa c'è al di là e quale prezzo poi la natura sconta per la realizzazione di questi impianti ma anche di questi semplicemente di sfruttamento del territorio e su questo i ragazzi sono stati assolutamente molto sul pezzo hanno dimostrato anche una capacità di critica molto forte un altro esempio di progetto sempre di rapporto fra i bambini e i ragazzi con l'ambiente circostante l'abbiamo sviluppato attraverso il quaderno volante che ne ho portato qua una copia per chi poi volesse dare un'occhiata e in questo caso era un tentativo di far comunicare le due comunità che erano dei ragazzi di Riva del Garda e di Tione con una scuola del Dipartimento del Sucre in Colombia si è poi tramutato nel scrivere lettere da parte dei bambini sul loro rapporto appunto con l'ambiente circostante e scambiarsi queste lettere, queste riflessioni ad esempio dalle lettere scritte dai bambini colombiani emergeva ad esempio la presenza molto forte di una multinazionale dell'oro, estrattiva, che stava comunque sconvolgendo quello che era l'ambiente in cui vivevano e in questo caso è stato molto importante comunicare scambiare le esperienze dei bambini anche per, come dicevo prima, fargli vedere un terreno comune entro cui sviluppare dei pensieri critici un ultimo filone che per noi è molto importante e su cui abbiamo intrapreso un percorso rilevante è quello dei diritti umani non si può non parlare di beni comuni e difesa dell'ambiente e non parlare di chi difende questi beni comuni quindi promuovere sì dei percorsi che valorizzino e promuovere una giusta gestione dei beni comuni ma anche difendere chi difende i diritti umani su questo abbiamo intrapreso un percorso un tentativo di responsabilizzare e promuovere delle politiche pubbliche ma anche da parte della società civile da novembre in modo da sensibilizzare su questo fenomeno che diceva anche prima Francesca è un fenomeno trasversale nel mondo di attacco crescente verso i difensori di diritti umani a gennaio di quest'anno è stata firmata dalla provincia autonoma di Trento una mozione un percorso che abbiamo sostenuto insieme al forum per la pace e i diritti umani che vede per la prima volta in Italia un ente pubblico cioè la provincia autonoma di Trento assumere delle responsabilità proprio per portare avanti dei percorsi o comunque di sensibilizzare sulla tutela dei difensori dei diritti umani e su questo è un percorso che si inserisce in delle linee guide europee che la Commissione dell'Unione Europea ha già proposto che è un primo tentativo di mostrare quali potrebbero essere degli strumenti concreti per aiutare i difensori dei diritti umani uno degli strumenti potrebbe essere proprio quello che l'Unione Europea la chiama temporary relocation cioè uno spostamento temporaneo dei difensori dei diritti umani dal luogo di origine e di attività e spostarli temporaneamente in una zona sicura per poi operare un accompagnamento nei territori di origine e su questo speriamo che appunto la mozione che è stata firmata possa essere un primo passo ma speriamo ce ne siano altri e per noi diciamo parlare dei diritti umani diventa per parlare dei diritti umani diventa molto importante a questo punto portare delle testimonianze di chi difende in modo attivo e quotidiano i diritti umani e su questo proprio un progetto che stiamo cercando di sviluppare adesso è un progetto di interscambio che prevede l'arrivo di questa delegazione di colombiane attiviste nei loro territori sempre che riusciamo a sbloccare la situazione che diceva prima Francesca che le hanno bloccate in aeroporto per portarle appunto in Italia prima Roma e poi in Trentino a portarle a loro esperienza ci saranno diversi qua se volete abbiamo portato anche la brochure con la descrizione dei diversi interventi gli interventi avranno target diversi sia con la cittadinanza ma anche con le istituzioni trentine e il ministero degli affari esteri a Roma e l'obiettivo in questo caso è non solo dare spazio a delle narrazioni dal vivo su quelli che sono delle battaglie in Colombia ma è anche trovare dei punti dei punti comuni cioè una rete comune per portare avanti queste battaglie cioè in paesi così distanti però assolutamente vicini come dicevo prima vicini in una battaglia che deve essere per forza comune una battaglia lontana ma che ci deve assolutamente vedere tutti in prima linea per appunto per conseguire dei risultati comuni a tutti grazie